Tu stai dicendo sul serio Leon, dimmi che è uno scherzo così ridò anch'io, davvero dici sul serio? Violetta io sono serio, forse non è il momento migliore per quanto... No, non è il momento migliore, non ti rendi conto di come sto Leon, non voglio più parlare con te, vedi, vedi, vedi cosa? Perché mi stai trattando così, perché? Non capisco. Tu sai perché ti sto trattando così e anch'io lo so. No, non lo so. Tutti e due lo sappiamo, non lo so, non so di che stai parlando. Basta così e non mi seguire. Io sono tuo padre, ecco. Perdonami, non avrei voluto dirtelo così. Cosa? Non avrei voluto dirtelo così, perdonami. Come? Ma lei è consapevole di quello che sta dicendo. Non mi deve mentire perché lei non è mio padre. No, no, io non ti sto mentendo. Io sono il tuo papà e tu sei il mio figlio. Io non voglio ascoltare. Tua madre e io ci siamo sposati quando io vivevo in Spagna. Non sapevo di te, è la verità. Io non voglio continuare a sentire le sue... No, no, Diego, per favore, ascoltami. Non mi tolgo. Ascoltami un attimo, per favore. Mi sono sbagliata. Avresti accettato di portare avanti la nostra relazione a distanza? No, no, beh, hai ragione. Quando la tua famiglia è andata in Italia, ne abbiamo parlato e... non sarei riuscito ad accettare una relazione a distanza. Beh, allora... Ho preso la decisione giusta? Sì, però mi sarebbe piaciuto che mi avessi avvisato per decidere insieme. Non volevo angosciarti. No, lo so. E quindi siamo amici? Suppongo di sì. Sono molto felice per la tua opportunità. È fantastica. Ti voglio bene. Bene, fatto. No, 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 questo è stato totalmente fuori luogo. Io non... No, Ludmilla, io ho pensato che... Ma che, tu che, mamma, ma che pensavi che io sarei cambiata? Già, ti ho detto che non voglio cambiare né per te né per altri. Per quale motivo dovremmo stare insieme? Per farmi dire tutti i giorni della mia vita quanto io sia cattiva e che sbaglio sempre? No, io voglio che... Non dire niente, voglio che tu mi stia lontano, è chiaro? Ludmilla, lasciami... Non voglio stare con te. Questo è tutto. Io ti amo. E ti accetto così come sei. Devo parlare con Jade per dirle che non ne sono innamorato e che siamo solo amici. Eh. Cosa? Perché? Jade. Stai bene? Posso stare bene dopo quello che ho sentito? Io ammetto di essere stato duro e... E ammetto anche di averti illuso. Però non proverai mai per me quello che io provo per te, no? Germán, tu sei tutto per me. Non c'è un solo giorno in cui non sogni una vita insieme. Jade. Ora lasciami parlare. Non voglio mentirti mai più. Io ti amo, Germán, e ho fatto l'impossibile perché stessimo insieme, perché tornassimo a essere felice. La verità è che mi sono impegnata e non avrei mai creduto di poter fare tante cose, però... Però le ho fatte. Non so di cosa stai parlando, non capisco. Non importa che tu mi capisca, ma quello che capisco io è che non mi ami e che... È tutto finito. Beh, però... Noi potremmo continuare così, no? Come siamo ora, come amici. Io non posso essere una tua amica. Non posso. Vuoi sapere come continua la storia di Violetta? Allora non perdere le puntate. Da lunedì a venerdì alle 20.10 in replica alle 14 solo a Disney Channel.